Sono passati più di quattro anni da quando Teresanna Pugliese e Francesco Monte non stanno più assieme e molte cose sono cambiate. Teresanna si è sposata e ha un figlio, mentre Francesco era fidanzato con Cecilia Rodriguez fino alla scorsa settimana, quando la modella argentina nella casa del GFV si è avvicinata pericolosamente a Ignazio Moser. La Pugliese, fino a questo momento, non aveva mai commentato la loro storia d'amore, nonostante più di una volta fosse stata tirata in ballo. Ieri pomeriggio, infatti, dopo la diretta della nona puntata del GFV, Teresanna Pugliese ha condiviso tramite il suo profilo Instagram una storia. Nel video la ex di Francesco canta la sigla di Beautiful e scrive rendiamo grazie a Beautiful Beautiful è una sopopera costruita su treschi amore, NDR. Il riferimento va chiaramente a quello che sta succedendo all'interno della casa del GFV. In qualche modo la bella napoletana ha voluto mettere i punti su lei in una storia che a suo dire era già stata scritta da tempo. Teresanna Pugliese, infatti, nel 2013 aveva lasciato Francesco Monte per incompatibilità caratterali e lui poco dopo si era fatto vedere in compagnia di Cecilia. Questo particolare aveva ferito terribilmente la napoletana perché più di una volta Monte le aveva confessato che non avrebbe mai voluto unire vita privata al mondo dello spettacolo, ma così non è stato. La pugliese, poi, aveva notato in Francesco un forte cambiamento dovuto al nuovo mondo che stava frequentando, un cambiamento che mai ha condiviso. In questi anni, però, Teresanna è andata avanti e della coppia Rodriguez-Monte non ne ha più voluto sapere, nonostante da sempre sia il suo tasto dolente. Poi è arrivata l'esperienza del GFVIP, la decisione di Cecilia Rodriguez e la fine della loro storia. E una piccola rivincita per la pugliese. Guarda il video.